un chilometro alle zi un po' di spazio dove è spazio o è morto? no, c'è ora ok, gli alberi da me il touch touch fuori 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 al favore me lovo fuori ecco RTB roger 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 Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Andiamo. Andiamo. Ok. Andiamo. 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 Ok. 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 ci sono troppi rami per terra rami non ci avevo mai fatto cazzo le famose foreste di rami peccato che non fanno solo uno spazio sopra oh yeah miglia e suoni diversi dirami chi si rompa non c'è un'altra non c'è un'altra non c'è un'altra ma non c'è un'altra io ho capito monelli norelli è qualcosa non c'è un'altra cosa che non vuole è che i colori non mi piacciono sti colori non c'è un'altra non c'è un frontale a meggi verso l'est ah wow splendido oh la adesso ma io un po' troppo forse aspetto non c'è un po' troppo la tua posizione è tranquilla e interrogativo? Ok, ripartiamo, colonna, andiamo la tua posizione è tranquilla, ripartiamo, andiamo facciamo un attimo a copertura a sud abbiamo qualcuno a terra mi pare chi è a terra? ho visto qualcuno di nostri guiniti sentirà lui dietro? eh sì dietro quella roccia sotto lo skyline sotto lo skyline perfetto guardi tenete pronto scusa la statica vai una statica dietro 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 così vai 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 bravo sfrutta il fumo per avanzare sull'alto finale 3-5-0 faccio un archettino a sud ovest sì va benissimo vai andiamo di qua ok ultima opere andiamo a sud a sud a sud oltre il roccione di qua di qua ok pare da vabbè restare a fare il medico andiamo cazzo pensavo fosse un pochino più roccia è silenziale di imparare non so non convince rameus 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 man down eh sì ha notato che siamo fatti male vediamoci un attimo rameus man down 2-5-0 non so non so rameus 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 Sì Stai ancora su rocione? Io sono rivenuto Matti qua da terra Mi è venuto che Matti ha anche le gambe rotte un po' rotte rotte Ok, mi sono appena trovato davanti qualcosa di pesante sto crescendo lì indietro Sì Stattus Vendando Sì Sì È da lunghi Sì Sì No Sì 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 Affirmativo sto muovendo anche a fronte suportivo Ramis, check Check 2-7 Ancora sulla pietra sto scendendo Non ti ho copiato Matly Oh i morti vostri questi cazzo di pietra E' rimanuto Valericcioni di merda Faccio la testa Faccio la gamba Vale don dove sei Ok sei a posto Vai pure la con gli altri Eh sono con giallo Sai dove sta sparando tutti? Eh siamo dove erano le rocce prima un po' No Non ho niente da fare mi servirà stiqui da me Ok C'è il viso giallo E' arrivo 7 sul postone Ah no sei qua E' mi qua a bari E' mi qua a bari Adesso E' il viso giallo E' il viso giallo Dio Dove sei Ah no Dove sei Che cosa ha Ma è il viso giallo Come è lì Che cosa ha il motto? Che cosa ha il motto? Si si Ok 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 Per avanzare verso la statica Eh Lì c'è il costone prendiamo la vallata che si sviluppa da questa parte sul lato ovest e ci avviciniamo al compound prima intendevo tagliare però c'era i contatti perchè l'ho passato sotto perchè vedevo che sparavano proprio da qui perchè l'ho fatto il taglio sotto iniziato a muovere vediamo siete operativi? no, abbiamo Marte di Gio come è arrivato qua Marte? l'ha portato su Rack era là più avanti alfa wedge va che non mi viene no, Earth Raid ma l'ho restata via un po' bene no, per forza si è fatto due morfine ah, si è fatto due, bene si è fatto due morfine mi sa che ti conviene fargli un po' di CPR Marte di non fare assolutamente più morfine da solo soprattutto due di fila più Marte oh, mezzo in arrivo 2-5-0 sembra civile eh, sembra civile bene, non facciamo all mettiamo puntato con farma civile ok 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 rigeoniamo su alfa tra 4-0 all'incirca devo smettere di drogarmi in campo vedrai che c'è una ballata sul lato ovest ballata sul lato ovest 7.5, sulla nostra sinistra sempre civile sempre civile roger ok bravo cerca di settare l'mg su quel crinale con visuale all'interno del compound lascia il medico e la t 2-2-0 sotto il crinale a coprire l'elettrovia alfa appena pronti inserite sul mio comando ok un attimino non c'è una copertura carina qua qua pronti quando inseriamo muoviamo verso 0-0 guarda pari mattley posizionatevi a quel roccione e puntate verso sud ovest da dove siamo venuti praticamente la ballata da dove c'era anche la tecnica che muoveva l'entrata è la propria filo vante no non c'è 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 Grazie. No, 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 no. Grazie. 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 chi è che è stato pigliato? non lo so guardi attenzione al vostro 0 0 0 potrebbero arrivare dei contattieri e non per l'abbattuto uno non so con che arma sparava ma era una roba strana bravo con il comando sgancia la posizione, riguarda la posizione di Alpha e dai support ok pronti a muovere una colonna colonna pronta andiamo roger Alpha stai ingerendo la tua posizione attenzione numerosi contatti roto nord ovest bravo 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 7000 mg su quello spigolo con visuale verso l'ovest all'esterno nord ovest esterno ok la metti sull'angolo il oh prendiamo d'occhio un attimo le finestre è spuntato una soltetta c'è un bunker in fondo per prendere posizione c'è un bunker c'è un bunker in fondo c'è un bunker in fondo prendi posizione sull'edificio al centro del compound alto fortificato c'è un bunker in fondo ok prendiamo posizione l'edificio alto fortificato anche tu c'è un bunker in fondo c'è un bunker in fondo il nostro è il suo sento un vicolo è che stanno una musica viene viene presso il diamantino questo è una visuale migliore ragazzi che prendiamo posizione qua un buon carino metti pure in questo modo che c'è la francia no no quest'alto quest'alto l'altro con l'incipio visuale verso north dov'è che sentivi il rumore fiore in direzione 3,2,0 ma non uscite niente sì 3,0,0 quella torre lì mi preoccupa un attimino a 3,3,0 eh quella lì c'era da primo contatti e sono andati giù hai l'obiettivo? guarda ancora visto venire buttato giù un albero a 3,5,0 3,5,0? sì hanno buttato un albero lì giù che altezza più o meno ehm ma mi sono 50 metri? ah appena pronto comincio a muovere obiettivo finale VP3 misello mi sa che c'è un veicolo in quella zona guarda se mi conferma oh contatti a 0,4,0 lo rivedo mi sparano ok mi sparano a me peering scusami 0,4,0 0,4,0 no in mezzo no in mezzo no in mezzo non in mezzo era in quella direzione lì chi era fiore? 3,0,0 0,0,0 visto un albero abbattuto anche no in mezzo no in mezzo no in mezzo no in mezzo non in mezzo no in mezzo Grazie a tutti. Dove sono? Oh, ancora quel cazzo di... Sono come le mattone gialli. Sono sparse. Io sono fermo. Eh, a quanto pare non ho abbastanza. Sì, direi che si potrebbero anche disabilitare le reazioni che a destra non hanno alcun senso logico spesso. Il confronto. Sì, direi che si potrebbero bravo, ti ho marcato B1 in mappa. in 027160. Iniziate però a muovere. Cerchiamo di fare un perimetro sicuro intorno all'obiettivo. Ok. Allora, andiamo giù a puntata. Tutti giù, tutti giù. Ok, lato est. C'è stato un mezzo, eh? Mi sembra 3-0-0. 0-2-0 sembrerebbe. Mi sembra un cane uccidire, ma non ho conferma. Andiamo. Ok. Ok. Questa è un numero infinito. Il mezzo lo sento per 050 adesso eh. Dov'è che è? Lo sento per 050 il mezzo. Andiamo a vedere. Un camion. 060. Non sembra un camion eh. Ma in effetti non sembra un camion. Sembra un cingolato. No è un camion. Cioè boh era qualcosa di blu. Non l'ho ben identificato ma era un coso di blu acceso. Non credo fosse. E allora. Vabbè andiamo alla posizione. Ok. È in contatto. Abbattuto. Eh? Non so. Sparta a caso. E allora è andato giù. Però che cosa fare sia. Mi ha fatto qui. Ma che paura buu. E allora è andato dietro. Stai bene piano di sopra? Sopra libero. Ok prendiamo posizione a piano di sopra. Abbiamo contatti 020. Sopra libero. Ok prendiamo posizione a piano di sopra. Abbiamo contatti 020. Sopra libero. Sopra libero. Stai sicuro ipg. Abbiamo dei contatti nel nostro nord. Sporadici. questa casa non è neanche nella posizione giusta la finestra è dalla parte sbagliata mi stanno sperando di soltare come via si si Ok Siamo sempre in mezzo alle piante Ok Stiamo basso È lì A 1-5-0 Stai basso Lascia l'avvicinare Intanto se stiamo basso non ci spara Per avvicinarsi un pochino Lo ricontrolliamo per 30 secondi Una volta che Accorce per la distanza Si sta pure incazzando No no pare non andare a te Mattri provo a controllarmi te un attimino Verso 1-5-0 adesso Eh beh in mezzo L'ha infrascato in mezzo Le piante Se non lo vedi ritorna sotto Aspettiamo se avvicini ancora Piu ma il coglione che c'era qua al muro L'hai fatto? Si Ok Sì 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 Magari l'avevi preso Una timblading Non lo so Non lo sento più sparare Non lo sento più affatto un po' Perfetto Ah ok Anche qua Anche qua Avanti Ho ricevuto Ok Paridan e Fioran Tenete un attimo la posizione Vado un attimo con Mattri a minare L'antenna radio Andiamo Mattri Che bello Nuovo esplosivo Si si ce lo so Questo zaino sennò sarebbe un po' vuoso Non lo sento più Non lo sento più Non lo sento più Domo Cazzo Check Check Si te lì vi Guarda No Che cazzo di mille acqua che c'era Che cazzo pena No Sei l'assistenza medica ramos L'ottoriamo indietro Negativo negativo Stiamo tornando ma non c'è nessuno che dico no ma c'è un messaggio sulla strada non c'è un messaggio Comando da bravo Esplosivo piastato, siamo tornati a distante di sicurezza, quindi scuola Sganciamo un attimo tutti, andiamo Abbiamo già fallito No, mi sa che sta ciclando un attimino per trovare qualcosa di simpatico Ah, ok Mi metto Gino a far Ramiro è smattuto, è il mind detector Come? No, finisci io allora Che posizione? Non mi ricordo più se sta bene WP 4 Non ho copiato la prima parte della comunicazione Ok No, non si passa, mi sono posta aperta Ma c'era una casa chiusa No, non si passerà No, questa cosa non si passa Aspetta, facciamo il Gino C'è del fumo proprio qua, ha amassuto 3-2-0, facciamo un attimo un giro a destra Non si passa ok allora non so se uno è il rottame che l'ho lì e dall'altra parte c'è dietro quella casa c'è due rottami un camion che sta in mezzo alla strada se vuoi farteli tutti la macchina dice che è il rottame quella penso sia un rottame della mappa quella però dietro a nord ovest ce ne stavano altri dietro quella casa che sono un po' sospettini te li vuoi controllati copriamo da qua sopra sai regolina su WP4 andiamo un attimino andiamo bravo andiamo bravo andiamo bravo e stai a fanno un walker ma che cazzo che sta caricando 300 mila 24 mila unità ma dove cazzo lo vedo di eddi questi sono fai man distrutti aspettiamoci un attimo per farlo contento controlle ma quel muretto lì siamo ogni edì qualcuno mi guarda anche se non dove l'ultimo piano è salito sul tetto ogni dia è isolato nel campo è salito Ok, vado a verificare un attimino Qualcosa fu a nord Un'altra Allezito Per se c'è un ruptame da queste parti Per il momento Per il momento Per il momento Ok, scendete giù Venite al campo a nord LZ Oltre La casetta e il modello La casetta e il modello Avete bisogno di ricordimento? La casetta e il modello 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 Ok, non so se avete visto la notifica La casetta e il modello 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 Penso sia armato giallo Quindi come procediamo in caso? Bisogna sparare di vicino Eliminare il quanto più possibile Della scorta Dov'è che trovo la foto del tizio? Ambitasks, surrender the officer Eh eh eh, cosa ci dà? Mi ha messo così bene? E ora lo tentete Ma è uguale agli altri Da sotto ci sparano traccianti? Sì sì, è già la terza volta che mi sparano Fino a muoversi è bastardo perchè ho fatto 3 giri diversi Dopo l'esì ecco, fai verso sud-est, ti ho messo un matto e rimani in volo non stazionario per quella zona Però nel caso dovessimo aver bisogno di un passaggio veloce Il sento che vuoi durare, inesportabile Perché io non sento gli allarmi dall'elicottero? Io non li sento, e quello che dovrebbe sentire non li sente Magari ha disattivato qualche modo gli effetti Ormai difisito praticamente, grazie a tuo cervello Ok, siamo già sul posto, dovreste riuscire a spottarlo se c'è, o a destra o a sinistra ragazzi Occhio aperti, rallento anche un po' Ma è a piedi, in mezzo, com'è sto tizio? Con voglio, c'ho con voglio Con voglio diventare a piedi, ok Con voglio diventare a piedi L'allergia è il nostro 2-2-0 Sì, sì, facciamo il giro Chi è scelto? Dai, ho capito di posta Qualcosa in mezzo alla strada, verso 1-9-0 No, no Non si capirà il bus, ma La direzione è questa dove siamo puntati noi adesso, arriva dal nostro sud-ovest Due camion parcheggiati qua sotto, una macchina No, no Ti vedi Dai, scendiamo qui Libero a sinistra Non ho guardato Quasi distro, cioè libero? Non ho guardato Grazie, con le Brava Non ho guardato Grazie a tutti. Andiamo dove gli spargo, perché secondo voi con voglia. Sì, l'affermativa era al piano. Bravo 1, vieni qui. Bravo 1. Alpha 1, scusami. Ci sono dei veicoli. Alpha requisisce i veicoli e fa un primo checkpoint di blocco qua sull'incrocio. Il convoglio dovrebbe girare verso nord-est, quindi dovremmo farlo. Bravo invece, ti statti su questo compound. Ok. E nel caso sfondino il posto di blocco, apre il fuoco. Ovviamente apremmo il fuoco per fermare il convoglio, quindi solo sulle gomme. Va bene? Ok, perfetto. Via. Se lo bloccano sulla posizione di Alpha li raggiungo? Affermativo. Affermativo. Anzi, forse più che incrocio, più o meno questa distanza dove avete fuoco attivo anche voi. Qui? Sì. All'incirco a questa distanza. Va bene, ok. Ok, bravo. Andiamo in posizione al compound, al nostro 0-5-0. Ok. E qui siamo due veicoli. No. E blocchiamo la strada. Alla voltate sulla giz e io te la neanche. user disconnected from their channel 2 2 0 2 2 0 2 2 2 Si ma non mi ha spiegato il numero ai veicoli ok bisogna avere bravo con fuoco attivo mi metto sul tetto da questo campando all'incirca meglio se ci mettiamo tutti sul tetto così per aprire fuoco possibile ovviamente cerchiamo di fermare il convoglio per capire se ci viene o no non ho idea di qual sia avete i comandi di civil orders stop ok se non si fermano vuol dire che non sono collaborativi carina beh c'è pure questo coso che offre un po' di compartura pare da nemmeno piazzati qua niente e forse ve lo proteggo c'è rimasto appunto qua sopra che trovi qui il primo tetto dovrei che puoi rimanere ma guarda anche a destra oppa ok comunque concordiamoci con la radio mettiamo qui qua da posizione rameos rameos ok ma non 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 è devi sparare su quei veicoli, se nel caso il convoglio lì sorpassa dobbiamo sparare lì alfa mi dicevi? alfa mi dicevi? sai che il convite conviene passare su 120 viene avanti alfa mi dicevi? ok alfa mi dicevi? alfa mi dicevi? eh infatti ci si dovrebbe ricordare un po' non cazzo alfa mi dicevi? avanti giallù così qua ti prendo la macchinetta verde il canale di squadra è del 100 comunque avanza leggermente ancora leggermente più distante stai ancora a tempo per farlo la macchinetta cambia caricatore cambia caricatore voglio vedere dove si piazzano infatti stiamo valutando fuoco attivo avanti giallù io direi approssimativamente con la zona hai tiro? vari, tu che sei occhio di falco questa stradina lì così la vedi? sì perfetto alfa perfetto ci sono chiamato per loro sono più in orde ecco 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 abbiamo visto 30 km fa abbiamo visto proviamo a prenderli tant'è che avevo detto andiamo a prenderli dai no no è più una metta qua è più una metta qua il padre resta qua allora oh ho visto 30 km ti fa' sta roba mamma mia che cazzo è che adesso incanto così tanto? allora non fermi vai dai scendi sotto quando ho qui alfa 1 avanti allora ok ora allora mi adesso queste io Grazie a tutti. 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 va bene. colpa. a tutti. , a tutti. a tutti. , 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 a tutti. Ok, vado io un attimo Con lo stesso la borraccia una sola volta è preso 33 kg C'è un membro con l'ottica lunga Ma te l'è vero, con l'ottica lì non è regolamentare Non sa neanche guidare Rami Questo coso qua Oh Carina Che c'è il suo ramo a destra Grazie 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 veloce veloce veloce, MG piazzata verso nord vai dentro che siamo a piano bravo non può stare davanti 0-2-0 è sfilato ok è sfilato 0-2-0 è sfilato ok è sfilato 0-2-0 0-0-3-5 negativo grazie grazie k grazie Sì, la posizione è 0-3-0, c'è un bunkerino su, c'è una tenda mimetica. Sì, è pronto, e augure per quelli. Ah, 3-0-6. Ah, fermo al muretto. Calvino all'ultimo piano del pazzo. Ah, 3-0-6, vorrei procedere il fuoco. No, 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 no. Allora. No ha ferito I vi escavare che fino a che non vi sulle scale fuerti mediezo Mira che sto pinando di una spara No, no, no E questo è tranquilo, viene lui non ho smesso di sparare ok, vai Ah sì Grazie a tutti. 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 Andato, 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 andato. Grazie a tutti. 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 Statica disattivata già in precedenza Ok, si muovono Le statiche per adesso mi sembrano manate La tengo un attimino dolce Ok, si muovono E qui a sopra passate adesso 080 Ok Faccio il risparo Ecco lì Faccio il risparo Il risparo Il risparo Il sopporto utile da questa posizione Per l'avanzato di Alpha È ormai cessato Che devo dimuovere Non c'è niente Andiamo su Non c'è qua Yeah No c'è niente No c'è niente Ancora Ancora Bravo Passiamo al lato est Venite qua lato est Venite qua lato est Torniamo tantomeno indietro Sud est Che bella Che bella installazione L'architettura No c'è niente Occhio qui Così là Ok in arcia eliminata vediamo prima qua dentro velocemente e poi andiamo sopra ok non si vede niente ottimo sappiamo che è pulito finiamo sotto ok ok direi passiamo da qui vedi da qui funziona ok prendo un'altra posizione qua sopra ok pari e fiori restate un attimo qua vado a controllare un attimo questi edifici est con Martri e ritorno qua in zona ok ok non miro additivo completato non è detto però che sia veramente completato andiamo un attimo andiamo di sopra ok scendiamo sotto scendiamo sotto matriz sono sempre stato sotto ah ok ripeto niente la ramia a terra assistenza la zona è calda non 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 anche non 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 allo sopra arrivo allo sopra a prima Andiamo sulla strada. Questo pappellone Ace trae così a casa. Meraviglioso. Vediamo questo, una per il piano piano. Ok, libero. Sì, ci sono portati via, ora non c'è. Speriamo un attimino a andare... Scendiamo in piano interno. In un'altra strada andiamo al solist. a 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 ottimo lavoro a tutti ad eccezione del convoglio dell'ufficiale poi ci sarà aperta un'inchiesta Raven mi sa a corte marziale ah no è stato Psygo io ho sposto il testimoniale dopo che non finiamo vi spiego perché è veramente un escalation di schifo guardate bene se ITL dovete fare un debriefing con il vostro team se no poi ci becchiamo con ITL sopra e con gli altri a mercoledì prossimo ottimo lavoro ragazzi ciao ciao buonanotte sei stato bravo ma non altro è stato bravo che non ha sparato nessuno esatto più o meno no alla fine ho sperato un po' no ciao 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 ciao